Nessuno può dimenticare, quella bomba avrebbe cambiato il corso della storia. Il paese dopo 18 anni, due ebra sprofonda nel medioevo imposto dai talebani. Zulu 2-Niner, stop it, keep your head still. Copy, line on. That is an IR. Here they come. I diritti umani sono calpettati, sostenuti. Stop. No. No. No, no, no Sì, di nuovo partono. Soldati comunque a Gerusalemme. La maggior parte dei massacri opera dei servizi segreti. La libertà, la libertà, la libertà si continua a pagare con la vita. Gli orrori della pulizia etnica nella ex Jugoslavia. Gli orrori della pulizia etnica. Gli orrori della pulizia etnica. Gli orrori della pulizia etnica. Gli orrori della pulizia etnica.